Ciao, sono Nicolas Benigni e sono il fondatore di Grafica Parrucchieri. Ciao, sono Nico Benzio e sono il primo beauty social coach italiano. Ti faccio questo video per presentarti il primo workshop dedicato interamente al marketing in azione del tuo salone d'acconciatura. Perché abbiamo creato un workshop? Perché negli anni in cui sia io che Nicolas abbiamo frequentato, lavorato insieme ai parrucchieri, ci siamo accorti che spesso la differenza sta nel fare le cose. Perché abbiamo creato un workshop dedicato esclusivamente al marketing in azione del tuo salone d'acconciatura? Perché posso immaginare quante volte tu ti sia ritrovata da sola in salone con degli strumenti teorici che non ti hanno messo in condizioni di passare all'operatività. Ecco, ciò che vogliamo noi è che tu in tre giorni abbia tutti gli strumenti a disposizione per tornare in salone e avere già del materiale pronto all'uso, già preparato, studiato sul tuo marketing, sia offline che web, pronto per essere utilizzato all'interno del marketing del tuo salone, per portarti risultati tangibili nel più breve tempo possibile. Tre giorni intensivi insieme a me, Nico Benz, le online angel e le grafiche di grafica parrucchieri. Tutte in una sala dedicata esclusivamente a creare materiali e contenuti pronti all'uso per metterti in condizioni di tornare a casa con un vero e proprio arsenale da utilizzare per il marketing del tuo salone. Quindi vuol dire niente palco noi che facciamo lo speech e tu che ascolti. Ma vuol dire tutti a dei tavoli, noi giù in sala con te, insieme a te, insieme alle nostre online angel e le nostre grafiche a costruire per te la tua struttura web e la tua struttura offline. E quindi ci vediamo a Milano il 22, 23, 24 ottobre per Parrucchiere in Azione. E le informazioni dove le trovi? Su www.parrucchiereinazione.it Passa l'azione!